la parola di dio dice naman capo dell'esercito del re di siria era un uomo ottenuto in grande stima e onore presso il suo signore perché per mezzo di lui il signore aveva reso vittoriosa la siria a quest'uomo forte e coraggioso era nebroso alcune bande dei siri in una delle loro incursioni avevano portato prigioniera dal paese di israele una ragazza era passata al servizio della moglie di naman la ragazza disse alla sua padrona o se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta a samaria egli lo libererebbe dalla sua lebra voglio solo pregare un attimo insieme a voi signore con tutto il cuore ci accostiamo a te a te che sei il padre di tutti noi e conosci il bisogno di ciascuno di noi padre ti preghiamo ancora una volta spezza tu il pane che viene dal cielo parla al nostro cuore lo chiediamo nel nome di gesù a questo testo comincia parlando di naman era un uomo sicuramente che nella società del tempo aveva un'ottima posizione era il secondo dopo il re di siria e penso di non sbagliare nel dire che probabilmente la siria era la nazione se non una delle nazioni più potenti di quel tempo da man aveva un'ottima posizione sociale era un uomo potente sicuramente era un uomo anche ricco perché il bene l'aveva il re sicuramente l'aveva ricoperto di beni per le sue imprese la mano aveva il rispetto e la stima dei uomini era onorato dal re della nazione immaginate aveva avuto successo in ciò che faceva aveva potere ma quest'uomo nascondeva un problema un problema che forse nelle sue apparizioni pubbliche era nascosto sotto i suoi parametri sui paramenti militari era un problema che sfuggiva agli occhi di più però non problema che non è sfuggito all'occhio di dio perché riportato nella sua parola e la parola di dio ci dice che quest'uomo forte e coraggioso era le broso voi sapete la lebra era il male più terribile a quel tempo essere le prosi significava morire non c'era speranza e sapete naman ci parla del modello e la nostra società ci propone oggi modello di uomo che la nostra società ci propone proprio come nama è una persona di successo deve avere una buona posizione nel lavoro nella società deve avere raggiungere traguardi economici essere intraprendente forte la televisione ci presenta un modello impeccabile di uomo di donna o forse anche di famiglia non so quanti di voi si ricordano la pubblicità del mulino bianco dove c'è la famiglia felice che si siede al tavolo e fanno colazione in pace i bambini sono tranquilli nessuno corre nessuno grida quando avuto ho avuto dei figli ho scoperto che era solo una pubblicità e non era una realtà perché la mattina qui da noi c'è un bambino che grida di qua l'altro che corre di là uno che fa cadere la brioche e sapete la televisione la società ci presenta un modello che è perfetto quasi irraggiungibile però sapete il modello che ci presenta questa società non è reale e la società veste quest'abito di potere di perfezione e nasconde il dramma più grande quello del peccato il peccato e la lebra che tocca l'anima dell'uomo peccato e la lebra che tocca ogni uomo è una società che vuole farsi vedere bella appariscente che veste il suo abito più bello che nasconde questo problema ma quel problema è lì e l'occhio di dio arriva lì e gesù essendo dio guarda il bisogno nascosto del cuore dell'uomo e dei dichiara con forza il campo è grande il bisogno è grande ma gli operai sono pochi ci sono tanti in a man che ancora oggi in questo tempo stanno viaggiando a destra e sinistra in quest'epoca e si vestono di questo vestito che la società ha cucito alla perfezione ma ancora dio guarda dal cielo e dice il campo è grande e gli operai sono pochi pregate dunque il signore della messe affinché spinga degli operai nella sua messe c'è bisogno di operai se qualcuno oggi dovesse chiedermi qual è il bisogno più grande del campo di missione non sono i soldi non sono forse la possibilità di costruire nuovi edifici il campo di visione il campo di dio ha bisogno di operai e sapete quando gesù dice pregate che il signore spinga degli operai nella sua messe questo termine spinga ci parla quasi di una forzatura non so se avete visto mai quei cartoni dove c'è un personaggio che viene spinto e punta i piedi e l'altro dietro che continua a spingerlo nella direzione che vuole con forza bene e questo e è questa l'immagine che ci vuole dare gesù pregate affinché il signore spinga degli operai nella sua messe perché dal punto di vista umano non c'è nessuna convenienza a servire il signore non c'è un'attrazione normalmente il cuore umano non sceglierebbe di lasciare tutto di dedicarsi di mettere la propria vita sull'altare per raggiungere i perduti per questo c'è un'opera che dio compie egli ci tira a sé con legami d'amore e oggi vogliamo ancora dire signore spingi degli operai nella tua messe spingili mentre pregheremo chissà che dio inizierà a muovere il nostro cuore e inizierà a parlare alla nostra vita e ci dirà se proprio tu se proprio tu colui che deve andare se tu che devi lasciare tutto se tu che voglio spingere e con gioia noi faremo quello che dio ci chiederà e sapete c'è bisogno di operai che sono disposti a servire dio nonostante tutto come quella giovane che viene appena appena citata in questo testo ma che ha una importanza fondamentale voglio sottolineare una parola c'è bisogno di operai non di pastori poi mi spiegherò non di missionari non di evangelisti noi non vogliamo titoli vogliamo essere operai nel campo di dio i titoli appartengono a questo tempo siamo in questa epoca la chiesa organizzata in questo modo gloria a dio ma quando saremo nel cielo gesù gesù ci dirà bene fatto mio buone fedele servitore siamo servi nelle mani di dio e vogliamo essere servi nelle sue mani servi operai disposti non capaci non guardare le tue capacità dio non guarda a cosa sai fare ma dio guarda la disposizione del mio e del tuo cuore e fino a che il nostro cuore sarà disposto allora ci sarà spazio per me per te nel campo di dio sapete quando cercavo di capire la mia chiamata al servizio pregavo il signore dicevo signore me hai chiamato e dio mi mise davanti questo testo e me viene mi venne davanti un'immagine immaginate un uomo un agricoltore da un campo immenso ha tanto da lavorare e qualcuno va da lui dice guarda voglio lavorare per te dammi possibilità e lui risponde no è qualcosa di assurdo ma se dio stesso sta dicendo il campo è grande e gli operai sono pochi una cosa sola ti chiede il signore disposizione e poi sicuramente ci sarà uno spazio un posto anche per te nel campo di dio ma vogliamo analizzare un po quello che questa giovane fece e vogliamo prendere un insegnamento prezioso da questa giovane questa giovane fu disposta a servire dio nonostante quello che lei era nonostante se stessa questa ragazza il testo non ci dice che aveva compiuto qualche miracolo che aveva fatto quel corpo qualche opera potente non aveva un ministero profetico come eliseo che era un profeta del suo tempo non aveva nessun titolo era solo una schiava era una schiava ebrea era semplicemente un vaso di terra un vaso d'argilla non era una ragazza che aveva un valore anzi possiamo dire che a quel tempo per la condizione che viveva la sua vita non aveva nessun valore davanti agli uomini la sua vita era come un oggetto era solo un vaso di terra ma in quel vaso di terra dio aveva posto un tesoro e anche noi siamo vasi di terra ma dio ha posto un tesoro nel nostro cuore e quello che quella giovane aveva egli l'ha messo a disposizione per la causa dell'evangelo o aveva forse solo una parola da spendere non era molto ma quello che aveva egli l'ha offerto al signore mi viene in mente quella vedova che va a offrire nel tempio e c'erano molti primi di lei prima di lei che andarono ad offrire e sapete a quel tempo la cassa del tempio delle offerte era fatta in modo che si sentisse il rumore delle monete che cadevano e c'erano i ricchi che andavano e davano tanto 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 per quel tempio mentre lei aveva solo due spiccioli e forse pensava dentro di sé che differenza può fare con questi due spiccioli o senza questi due spiccioli il tempio andrà avanti comunque ma lei non si tirò indietro e offrì quello che il signore gli aveva messo nel cuore e c'era anche un ragazzo che un giorno sentì parlare che gesù veniva dalle sue parti a me piace usare un po di fantasia mentre leggo i testi biblici pur non allontanandomi dal contesto biblico e immagino questo ragazzo che di fretta e furia scappa corre via è un ragazzo che sta bene perché la mamma lo ferma di colpo e dice aspetta hai dimenticato la merenda e la merenda è fatta di cinque pani e due pesci pensate era l'unico che aveva qualcosa da mangiare in quel giorno si presenta lì gesù fa una bellissima predica o tocca il suo cuore e dopo la predicazione dei discepoli che discutono sapete che spesso gli uomini che sono diciamo scelti da dio a volte non hanno le risposte gli uomini che hanno un ruolo a volte non hanno le risposte le risposte vengono da chi non ci immaginiamo quest'uomo si avvicina discepoli gli tirano ritira la tunica e dice io ho la risposta e presenta cinque pani e due pesci che cosa sono davanti a tanta gente risponderà uno dei discepoli ma lui continua a dire è vero non sono nulla ma so che nelle mani di dio possono cambiare la situazione io voglio offrirle sapete a volte noi pensiamo che quello che abbiamo non può avere nessun impatto nell'opera di dio o fa niente se ci sarò non ci sarò al culto fa niente se andrò non andrò evangelizzare sono in tanti fratelli o il signore mi ha messo solo una parola del cuore ma non mi alzo a testimoniare perché sicuramente dio parlerà attraverso qualcun altro poco cinque panni e due pesci solamente forse due monete ma messe nelle mani di dio o quale grande benedizione se abbiamo una parola una parola sola ma se unta dal signore può portare un beneficio straordinario straordinario a quanti l'ascoltano c'era una vedova asseretta che raccoglieva la legna e nel suo cuore c'era tanta amarezza perché quella legna parlava di morte perché aveva soltanto una manciata di farina e un vasetto d'olio e dopo di che avrebbero fatto una focaccia saranno e sarebbero morti lui e lei e il proprio figlio le risorse che abbiamo a volte ci parlano di morte di incapacità ci parlano di insufficienza ci parlano di inadeguatezza non sono sufficienti neanche a sostentare noi stessi il profeta arrivò e gli disse che cos'hai una manciata di farina e un vasetto d'olio che bello quando confessiamo a dio che cosa abbiamo che cos'hai signor ho tanti fallimenti signore ho tanto scoraggiamento signore non ho nulla di buono in me e il profeta dice vai fanno una focaccia per me e poi fanno anche per te le decise di obbedire decise di mettere quello che aveva nelle mani di dio e ciò che parlava di morte fu qual una benedizione e fu qualcosa che portò vita alla sua esistenza e per quella per quella manciata di farina e per quel vasetto d'olio quella vedova continua a sostentarsi che bello quando mettiamo tutto nelle mani di dio non dobbiamo guardare i nostri fallimenti non guardiamo alle nostre incapacità l'appostolo paolo dirà fratti fratelli guardate la vostra vocazione non ci sono fra di voi molti sapienti secondo la carne né molti potenti né molti nobili e questa forse la realtà della chiesa ma dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare le cose le sapienti dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le porti dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate anzi le cose che non sono per ridurre al niente le cose che sono servi dio nonostante quello che tu sei o c'era isaia che entra nel tempio e davanti alla manifestazione della gloria di dio lui esclama o io sono perduto scopre il suo peccato scopre la sua inadeguatezza ma gloria a dio avviene un miracolo straordinario perché un angelo si avvicina all'altare con le molle prende un tizzone dall'altare gli tocca le labbra e dice ecco la tua iniquità è spiata il tuo peccato è stato tolto oggi vi voglio dire che c'è molto molto di più di un altare c'è un'altica collina che si chiama calvario e non abbiamo più un angelo nello spirito di dio che si avvicina a quel monte e non c'è più un tizzone ardente ma c'è il prezioso sangue di gesù e il sangue di gesù viene a toccare il nostro cuore e c'è una voce dal cielo che dice ecco è avvenuto gesù è morto il tuo peccato è perdonato sei una nuova creatura ora puoi servirmi e poco dopo arriverà quella bella chiamata che conosciamo chi manderò che andrà per noi isaia qualche istante prima era un uomo che diceva io sono perduto sono un peccatore vivono in mezzo a un popolo dalle labbra impure ma poi dopo l'opera che dio compie è un uomo che pone fiducia in quello che dio ha compiuto non in quello che lui è ma in quello che dio ha fatto risponde eccomi manda me continuando la nostra meditazione questa ragazza era disposta a servire nonostante le proprie paure che paura poteva avere questa ragazza prima di continuare voglio raccontarvi che all'inizio quando dio stava chiamando la nostra vita avevo paura di sbagliare cioè signore se sto sbagliando a fare questa scelta iniziai a pregare e dio mi messe mi mise davanti quel testo della parabola dei talenti e quella servitore che non investì il talento quando venne il padrone si giustificò in questo modo non l'ho fatto perché ho avuto paura la paura ci può fermare la paura può a volte anche bloccare il piano di dio nella nostra vita non fermarti per paura io quel giorno ho fatto una preghiera davanti a dio non è bene non sto dicendo che la dovete fare anche voi un'esperienza personale ma la mia preghiera è stata questa signore io voglio camminare per fede se non è tua volontà chiudi tu le porte però voglio fare tutto quello che credo sia nella tua volontà e preferisco arrivare in cielo e sentirmi dire emanuele hai fatto tanto ma non hai capito niente piuttosto che arrivare in cielo e sentirmi dire emanuele avevo chiesto di fare questo e poi quest'altro e poi quest'altro e tu non l'hai fatto perché cosa risponderò in quel giorno perché ho avuto paura signore liberaci dalla paura questa ragazza ha vinto la paura di perdere qualcosa era solo una serva e se nama non avesse accettato il messaggio una serma una serva che aveva l'insolenza di parlare alla propria padrone in questo modo e se nama non avesse creduto lei forse sarebbe morta la sua vita non valeva più di tanto ma quella giovane aveva reputato il messaggio che annunciava più prezioso della sua vita stessa o il messaggio che annunciava valeva di più anche se nama non l'avesse accettato anche se nama l'avesse rifiutato anche se lei doveva pagare con la sua vita stessa o lei diceva questo messaggio che ho vale di più della mia vita nel 1952 un gruppo di missionari raggiunse l'ecuador per raggiungere le tribù che ancora non erano state raggiunte dell'evangelo e dopo anni di formazione di preparazione raggiunsero avvistarono una tribù del 1955 erano così felici ma questa tribù aveva la fama di uccidere tutti coloro che si introducevano nel loro territorio non avevano mai avuto un contatto con persone occidentali e così questi cinque missionari instaurarono un primo contatto ma dopo il primo contatto qualcosa andò storto e loro questa tribù si iniziò a rivelare molto aggressiva verso di loro fin anche che questi cinque missionari furono uccisi da questa tribù ma che pensate che non lo sapevano che rischiavano la vita che pensate che erano sicuri che forse le cose sarebbero andate bene forse loro l'avevano messo in conto ma sapevano che il messaggio che annunciavano valeva di più non lasciamoci fermare della paura di perdere qualcosa perché chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà ma chi la perderà per amor mio dell'evangelo dice il signore la guadagnerà ma poi c'era un'altra paura la paura di fallire e se nama anna sia forse poteva accettare questo messaggio però poteva andare in samaria e se forse non sarebbe stato guarito e se fosse tornato così com'era sicuramente nama si sarebbe arrabbiato con la sua serva chissà cosa sarebbe successo ma quella ragazza credeva nel messaggio che annunciava credeva che il messaggio che annunciava era potente per liberare naman o non solo credeva che era un messaggio prezioso ma era un messaggio rivoluzionario che cambiava la vita delle persone e ancora oggi noi vogliamo credere che l'evangelo è la potenza di dio per la salvezza di chiunque crede e quando noi annunciamo l'evangelo vogliamo crederlo che qualcosa di spirituale sta avvenendo che nel mondo spirituale delle catene sono rotte che quella parola ha la capacità di trasformare perché quanti l'ascoltano non c'è fallimento nell'annuncio della parola di dio perché egli manda la sua parola e la sua parola non cade mai a vuoto andando verso la conclusione questa giovane è stata disposta a sedere dio nonostante le circostanze che non erano buone questa giovane prima di essere serva sicuramente aveva avuto una famiglia aveva avuto dei sogni delle ambizioni chissà crescendo con la sua famiglia desiderava e diceva ai suoi genitori da grande farò questo e quest'altro vorrei sposarmi e vorrei avere dei bambini però a un certo punto tutto questo fu interrotto abbiamo letto e la bibbia guardate che quando ci dai particolari ha sempre un motivo verso due alcune bande di siri in una delle incursioni avevano portato una ragazza che era passata al servizio della moglie di nama in un giorno tranquillo come tanti altri un rumore di cavalli lontani iniziò ad affacciarsi nella vita di questa giovane e senza rendersene conto non sappiamo forse i suoi genitori erano stati uccisi o erano stati separati ma questa giovane fu strappata la sua quotidianità in un istante i suoi sogni erano stati distrutti le sue ambizioni e si trovò forse in un mercato di schiavi in una cella aspettando che qualcuno passasse per acquistarla e quel giorno passò naman che l'acquistò e divenne la serva di naman o quanti motivi per dire a dio non parlerò più nel tuo nome o quanti motivi per dire a dio non voglio servirti o è vero ho sentito che naman ha un problema ma lui è stato colui che mi ha rovinato la vita non voglio parlare della tua salvezza non voglio parlare della grazia che c'è nel mio dio non voglio parlare che c'è una soluzione per la sua vita però questa giovane serviva a dio nonostante tutto e quella giovane ha perse la bocca e disse a naman c'è un dio in israele che può risolvere il tuo problema sapete la storia di quei cinque missionari che di cui vi ho raccontato non termina ma continua e la storia si fa più emozionante erano morti tutti e cinque sto parlando di jimmy eliot e di altri insieme a lui altri che uno di loro si chiamava anche peter fleming e altri insieme a loro e sapete questi uomini erano morti dal punto di stamano sembrava tutto perso ma c'era qualcosa nel cuore di almeno due delle loro mogli che continua alla continua a lavorare sicuramente sono state donne che hanno sofferto donne che hanno pianto donne che hanno visto i loro mariti andare lontani per servire il signore e non le hanno più visti tornare e sapete jimmy eliot a quel tempo aveva un bambino una bambina di un anno immaginate una donna che viene lasciata vedova nella foresta amazzonica dell'equador in quel tempo da sola con un bambino di un anno passarono due anni e mezzo e dio parlava al cuore di quella donna non è ancora finito il lavoro perché la morte di tuo marito non è stata vano è stato piantato un seme e quel seme deve essere lavorato e dio la portava la chiamava per andare in mezzo a quella tribù e le racconta abbiamo fatto tre giorni di cammino in mezzo alla foresta e di navigazione sulla canoa per raggiungere quella tribù e in quel momento mentre sono arrivato in quel giorno sono arrivata a vedere quella tribù guardavo negli occhi ognuno di loro e dicevo forse tu sei l'assassino di mio marito pensavo dentro di me ma dio metteva un amore più grande e questa donna continua a servire dio nonostante tutto e piano piano le cose cambiarono perché questi uomini continuavano a chiedersi loro stessi loro sanno che noi abbiamo ucciso i loro mariti ma sono venute qua e ci stanno portando le medicine ci stanno aiutando ci stanno parlando di un dio che non uccide ma che è morto affinché noi potessimo essere salvati e questi uomini piano piano hanno aperto il cuore al signore è uno degli assassini di jimmy elio oggi è un pastore evangelico perché una donna ha deciso di servire dio nonostante tutto e io e te quante difficoltà forse abbiamo sicuramente inferiori a quelle che abbiamo ascoltato quante volte perché forse la giornata non è andata come vorremmo diciamo non servirò non andrò in chiesa non farò questo ma sapete c'è un grande bisogno e il cuore di dio dall'alto ancora grida con forza chi manderò e che andrà per noi voglio concludervi dicendovi che oramai nel mondo in cui viviamo ci sono circa 80 miliardi di persone e solo circa 700 milioni di questi si dichiarano cristiani evangelici si dichiarano nati di nuovo meno del 10 per cento il 52 per cento più di 4 miliardi non sono stati mai evangelizzati o sono stati raggiunti superficialmente il 42 per cento di questo possiamo dichiararlo non raggiunto e vive tra il decimo e il quarantesimo parallelo in questa zona una persona su dieci non ha mai sentito parlare di gesù se voi camminate in questa zona normalmente l'africa settentrionale parla passando poi per il medio oriente in questa zona ogni persona che in con i dieci persone che incontrate solo un ha sentito parlare di gesù sono zone nelle quali non ci sono chiese o perlomeno non ci sono chiese alla luce del sole anche se qualcuno dicesse in cuor suo voglio andare a sentire che cosa si dice cosa si dice in una chiesa non ha la possibilità è un paese sono paesi dove non ci sono bibbie da poter comprare da poter reperire facilmente non ci sono programmi radio televisivi internet forse controllato oscurato e ci sono situazioni del genere dove ci sono persone che sono le brose però non c'è nessuno che gli dice c'è un dio che può guarire la tua lebra e ancora dio dall'alto dice chi manderò chi andrà per noi o forse non potrei andare ma puoi pregare puoi piangere davanti a dio puoi dire a dio manda degli operai nel tuo campo perché questo è il primo compito che ci chiede gesù di pregare affinché egli spinga degli operai nel suo campo di pregare affinché naman sia raggiunto di pregare affinché tante persone e tanti bambini possono essere raggiunti bambini che crescono con insegnamenti sbagliati in una cultura che li porta lontani da dio alcuni credono che ci sono migliaia e migliaia di altri crescono nell'ateismo più completo come la corea del nord oppure laos oppure altre nazioni gli insegnano che esiste un dio ma non gli danno la chiave per arrivarci e cresceranno frustrati perché frustrati perché cercheranno questo dio forse con tutto il cuore ma non arriveranno mai a trovarlo perché la chiave è gesù e noi vogliamo parlare di gesù vogliamo raccontare di gesù e vogliamo farlo con tutto il cuore servire dio non è facile così diceva il fratello pari e mi aggrego alla sua testimonianza non è facile servire dio ma dobbiamo servirlo nonostante quello che noi siamo il diavolo ti accuserà spesso non sei degno non ascoltare la voce del diavolo ma volgi i tuoi occhi verso la croce vogliamo essere disposti a servirlo nonostante le paure le paure di perdere qualcosa la paura di fallire no vogliamo credere che il messaggio che annunciamo è più prezioso di qualsiasi altra cosa anche se dovesse costare la nostra vita il messaggio che annunciamo è più prezioso ed è un messaggio che non fallirà perché porterà un frutto eterno e poi infine disposti a servire anche nonostante le circostanze forse stai vivendo circostanze difficili non lasciarti fermare perché ancora oggi c'è dal cielo una forte voce che esce dal cuore di dio e dice chi manderò e chi andrà per noi e io voglio rispondere insieme a te con tutto il cuore eccomi signore manda me e dio ci benedica gloria a te signore